Domenica 17 maggio alle ore 20 andrà in diretta streaming un concerto mariano. Ne parliamo con il direttore del coro Armonia Mundi della parrocchia San Bernardino in Molfetta, il maestro Nicola Petruzzella. Buongiorno maestro, benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, perché avete pensato ad un concerto online? Sì, l'idea di questo concerto è nata dalla nostra necessità che abbiamo tutti gli artisti di reinventarci e di produrre qualcosa di nuovo ed innovativo. E a spronarci sono state proprio le parole del nostro santo padre Francesco che in un recente video messaggio ci aveva esortati dicendo che anche se siamo isolati il pensiero e lo spirito possono andare lontano con la creatività dell'amore. Per questo abbiamo sentito proprio l'esigenza di voler produrre qualcosa di nuovo e quindi l'idea di un concerto mariano come avviene abitualmente ogni anno nella nostra parrocchia ma anche insomma nelle nostre comunità. Quindi l'idea di un concerto mariano ma online che dia la possibilità a tutti di poter fruire dell'arte. Ecco, possiamo dire che nonostante questo periodo che ci ha portato a essere isolati e distanziati ecco l'idea di un concerto online potrà raggiungere non solo i parrocchiani e la città di Molfetta ma magari anche alle tante comunità che vivono all'estero un modo per essere uniti e condividere questo bel momento musicale in un mese bellissimo che è quello mariano dedicato alla Madonna. Assolutamente sì. È doveroso anche ringraziare le artiste che hanno accettato di collaborare con noi e quindi è doveroso ricordare il mezzo soprano Maria Candirri, il soprano Carmela Lopez e anche la violinista Ilaria Catanzaro che hanno accolto il nostro invito e l'invito del nostro parroco Don Pasquale Rubini a partecipare a questa iniziativa. Ogni momento musicale ma anche di riflessione con degli scritti e delle preghiere che saranno lette durante il concerto. Allora, Maestro Petruzzella, ricordiamo quando sarà online il concerto e soprattutto come fare per seguirvi, per ascoltarvi. Sì, il concerto sarà online domani, 17 maggio, a partire dalle ore 20. Sarà possibile seguirlo sulla pagina Facebook della Parrocchia San Bernardino Molfetta, sul canale YouTube Parrocchia San Bernardino e anche sul sito della Parrocchia San Bernardino Molfetta. E presto questo concerto prossimamente sarà trasmesso anche da Padre Pio TV. Avremo poi modo di informarvi nella precisione sul giorno e l'orario. Grazie al Maestro Nicola Petruzzella, grazie al Coro Armonia Mundi e alla Parrocchia San Bernardino a Molfetta per questo grande regalo di musica e di condivisione. Grazie al loro appuntamento a domani sera. Grazie.